Non voglio essere un sindaco amministrativo, ma un sindaco politico. Questa è la frase che caratterizza la campagna elettorale di Fiorello Provera, in lizza per la carica di primo cittadino del capoluogo. L'ex presidente della provincia ha presentato questa mattina, dopo lunga e intensa meditazione, la propria lista civica, che si chiamerà Provera per Sondrio. Ho dato ascolto alle sollecitazioni che da qualche tempo vengono da parte di amici, di conoscenti e poi di gruppi sempre più vasti di concittadini. E quindi ho deciso di mettere a disposizione, per rispondere a queste richieste, e anche per gratitudine nei confronti di Sondrio, di mettere a disposizione le mie esperienze, le mie conoscenze internazionali per delineare degli scenari di sviluppo che vadano al di là dell'ordinaria amministrazione. La presentazione è avvenuta in totale solitudine per sottolineare la propria estraneità ai partiti. Una scelta precisa che anche nella forma esprime la sostanza. Essendo qui da solo, ho dato la prova provata, che non ho padrini né padroni, e gli unici veri padroni miei sono i cittadini di Sondrio. Molti i problemi che il candidato sindaco si propone di risolvere, dallo sviluppo tecnologico alla valorizzazione e promozione del centro cittadino. Bisogna offrire nuove occasioni ai giovani, e poi facilitare l'inserimento di investimenti privati per l'amodernamento turistico, ma non solo turistico, di Sondrio e di tutto quello che sta intorno a Sondrio, perché non è pensabile di favorire l'inserimento di un'impresa esclusivamente nel territorio comunale di Sondrio. Importantissima la squadra che accompagnerà Provera da oggi fino al 10 giugno. La sua, promette, non sarà una carica da uomo solo al comando. Nessuna indiscrezione al momento sui nomi che faranno parte del team, ma il candidato sindaco ha assicurato un'ampia presenza femminile. Di peso la candidatura di Fiorello Provera. Il medico pediatra può infatti vantare un curriculum invidiabile. Già deputato e senatore ha governato la provincia di Sondrio dal 2004 al 2009, per poi approdare al Parlamento europeo. Da sempre impegnato nell'aiutare i paesi in via di sviluppo, a Bruxelles si è battuto per salvaguardare gli interessi delle popolazioni alpine. È fondamentale far uscire il capoluogo Sondrio dai suoi ambiti territoriali. È assolutamente necessario aprire la collaborazione delle zone intorno e soprattutto utilizzare fino in fondo i canali che ci consentono di interagire con l'estero.